Voi fate cronaca, credo, spero che facciate cronaca. Noi vi abbiamo invitato qui oggi per far valere la nostra posizione. Scusate, queste sono società che senza i soci non sono nulla. Quindi il gestore dovrebbe considerare anche questo. Di tutto questo la famiglia Magara ne deve avere atto e se ne deve far carico di tutti i disagi in primis ai ragazzi. Perché loro sono venuti qui con un entusiasmo incredibile. A oggi l'entusiasmo sta sciamando. Genitori sul piede di guerra non ci stanno a vedere il futuro sportivo dei loro figli, compromesso per via della chiusura della piscina comunale di Arezzo. E così si sono ritrovati di fronte all'impianto. Sono tutti gli iscritti alla Chimera Nuoto. In questo momento si stanno allenando a Subbiana, è un'ora in macchina, andate e ritorno. Quando studiano, gli allenamenti sono pesanti. Sono ragazzi che vivono solo per il nuoto. Studiano e nuotano. Cominciano ad avere meno motivazione a nuotare. Noi l'abbiamo visto, domenica ci sono state le gare e si comincia a vedere. È normale che la situazione poi si ripercuote su di loro. Fondamentalmente sono loro. Non è giusto, non è giusto perché non sono un anno che lo fanno. Sono tanti anni, hanno raggiunto dei buoni risultati e sciupare tutto per l'idea di un singolo, secondo me, non va bene. La struttura è stata chiusa con un'ordinanza sindacale, così come quella di Foiano della Chiana, sulla base di un parere dell'azienda sanitaria. Tutto nasce dalla dichiarata volontà da parte del gestore di non chiedere il Green Pass a chi usa la piscina. Secondo il parere dell'azienda sanitaria, questo può aumentare il rischio di contagio da Covid-19 e da qui la decisione dei due sindaci, Arezzo e Foiano. Come soci non siamo mai stati chiamati in causa perché nel momento in cui un presidente di un'associazione agonistica, che non è Magara ma è Coli, a settembre non ha fatto una riunione con noi soci per dirci quali erano le intenzioni del gestore in primis, secondo me non ha senso. Chiamarci soci quando abbiamo richiesto le quote alla chiusura del lockdown ci fu detto non vi possono essere istituite perché essendo soci voi nel momento in cui ci sono delle perdite verrete anche chiamati in causa. Allora in quel caso siamo soci, in quest'altro caso non siamo più soci. Il gestore rimane fermo nelle sue posizioni, richiama alla Costituzione e alle normative europee, si oppone con forza a questa interpretazione e la piscina rimane chiusa. Ma la Costituzione c'è un organo che è la Corte Costituzionale per interpretarla, per giustificarla, volendo anche per far tornare indietro leggi dello Stato che per ora prevedono determinate cose. Qui siamo in una società sportiva, lo sport è il rispetto delle regole, ci si adegui. Lei è il gestore del bar, qual è la sua decisione? Niente, chiudo e vado a casa perché il lavoro è finito, per ora non c'è altro, non c'è momento, non c'è altra soluzione. Ad esempio con gli utenti della palestra non riesce a... C'è meno giro e non sostiene i costi di gestione, è una rimessa stare aperto tutto il giorno per dieci caffè. Lei lui chiedeva il Green Pass quando venivano a prendere il caffè? Sì, sì. Ho sempre chiesto, quindi anche i ragazzi, i loro figli che venivano a pranzo. Era categorico, cioè chi non aveva Green Pass non mangiava. L'ho stato un po' deriso per questa cosa, però io ho rispettato le mie regole, ecco. Ma domani è un colloquio di lavoro, quindi penso che la strada è segnata per me.